Salve! Salve! Non si sente bene? No, sto benissimo. Sono solo un po' brilla. A proposito, vuoi farmi una cortesia? Se posso. Metti da parte questo tuo maledetto formalismo. Sembrate fatti con lo stampo, voi militari. Quando deve portare a termine una missione, un militare, non trova posto per i sentimentalismi. Che sta succedendo in questo paese? Perché questa rabbiosa ribellione della natura? Fenomeni assurdi come morti che risuscitano e si cibano di carne umana. La luna, il cielo, le acque, tutto sembra contaminato. E voi altri piombati qui, chissà per quale missione. Lei è una giornalista ricca di fantasia. La nostra è solo una missione umanitaria vincolata da segreto militare. Top secret, vero? Il mondo va in malora. Le tombe si spalancano. I morti divorano i vivi. E ancora vige il segreto militare. E magari le conseguenze di tutto questo disastro partono proprio da un segreto militare. Un top secret. Come le cosiddette centrali... Hope. Come le cosiddette centrali! Ciao! Ho qua! Ho qua! Ho qua!